L'ultima, fai tutto, 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 tutto. Come lo chiamiamo questi geni da qua? CANTINO, CANTINO, SELLA RACOR MUSIC, CANTIN, ANZI CANTINO NO ALMEDO, SELLA RACOR, SELLA RACOR, SELLA RACOR, ESCITO IL NOSTRO PRIMO ALBUM, FILOSOFY FORMERS, FILOSOFY FORMERS, PERCHE HAI FATTO UN DISCO? Certo, io no, e si chiamava FILOSOFY FORMERS, PERAMENO, E SE L'AVANO SENTIR, SE L'AVEVI SUL COMPUTER? Sì, ah, è cacciato, figlia al computer, no, ora no, dopo si va, ok, dopo si dovete suonare, provare a salutare mia mamma, non sei andata, dai, ti aspetta, no, veramente, non è più lì, vabbè, ok, vai, tieni, hai un po' di gente c'è? Grazie. Grazie.